Lei è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Sì, certo, per il mio trascorso nell'Arma dei Carabinieri, avendo fatto servizio in zone con altra criminalità organizzata, tra cui Ciro, Ciro Tano, Ciro Marina, negli anni 80-90 fino al 2010, il Presidente della Repubblica ha voluto darmi questa onorificenza. Aggiungiamo che è bello ricevere un'onorificenza di questo genere perché vuol dire che si è servito allo Stato con tutto il cuore. Molto gratificante. Ti rivengono i ricordi e pensi che lo Stato, delle volte pensi che ti ha abbandonato, invece poi ritorna sempre il senso dello Stato e l'appartenenza. Vincenzo, sei stato nominato dalla Presidente della Repubblica Cavaliere della Repubblica. È una grande soddisfazione? Ovviamente è il coronamento di una carriera che è stata fatta sempre all'insegna del proprio dovere, dell'interesse superiore della collettività. Ovviamente io di questo riconoscimento sono onorato e penso nella mia modestia di averlo meritato, non con atti eccezionali, con cose straordinarie o eroismi particolari, ma facendo il mio dovere, facendolo bene, facendolo in un certo modo. Sicuramente il tuo impegno e il tuo lavoro è sempre stato un lavoro onesto ma nello stesso tempo al servizio del cittadino. Ovviamente, ma questo è insito nel nostro tipo di lavoro, nella natura del nostro lavoro. Uguai se non fosse così. Lei è stato nominato dal Presidente della Repubblica Cavaliere al Merito. Soddisfatto? Sono di fatto più che altro onorato di aver ricevuto questo alto riconoscimento che vorrei dedicare in primis alla mia famiglia e ai miei colleghi che giornalmente mi sopportano. Un ringraziamento va soprattutto al Presidente della Repubblica e a chi ha voluto che oggi, questo giorno, mi venisse consegnato questo alto riconoscimento. Dobbiamo dire che questo ci fa scoprire che c'è voglia di servire lo Stato e quando si serve lo Stato i cittadini avvertono anche questa grande fiducia e speranza di essere tutelati. Sicuramente, sicuramente questo ne riprova. Per me è un grande onore ricevere questo riconoscimento perché far sì che io mi renda conto in realtà che il mio lavoro giornaliero, quotidiano e certosino ha avuto dei risultati. Quindi ho fatto e continuerò a fare il bene per la collettività. Grazie a tutti.